benvenuti o bentornati sull'angolo di side ori per il consueto video delle ore 19 buona domenica oggi infatti è domenica e vi parlo come avete visto del dal titolo di tutti i preferiti del mese quindi le side ori mani e ciò che di più ho apprezzato nel mese precedente che riguardi cibi film beauty cose che ho fatto ad eccezione come sapete del make up che andrà a finire nel video il make up del mese che arriverà prestissimo in questi giorni a venire quindi oggi affrontiamo invece tutto il resto delle categorie ma iniziamo subito perché come al solito ci sono un po di cose da dire allora vi parlo di questi prodotti perché per quanto riguarda il fashion e quindi la moda le cose che utilizzo non inserirò nulla perché ho fatto un look book di recente dove vi faccio vedere quali sono le modalità più o meno con il quale mi mi sto vestendo in questo periodo quindi vestitini gonne sono praticamente il look prediligo insieme a skin e maglioni oversights queste sono le cose che metto e rimetto metto e rimetto la maggior parte delle cose che vedrete nel look book sono acquistate da me qualche capo l'ho ricevuto da china romwe però sono scelti da me nell'ottica di questo gusto e di queste insomma delle cose che mi piacciono nel periodo quindi vi rimando anzi ve lo lascio qua in scheda il video look book che ho girato da da poco però vi volevo far vedere delle degli accessori sapete che io sono una patita delle cose d'argento anche se molte mi chiedono silvia ma non hai più i bracciali non metti più bracciali d'argento in realtà li metto li metto anche piuttosto spesso ma non me li vedete più fissi come prima perché ho notato che in palestra con l'allenamento mi davano fastidio e tendevano anche a rovinarsi perché spesso urtavo sbattevo eccetera e devo dire che spesso e volentieri quando giro il video subito dopo vado in palestra quindi non me li vedete nel braccio li metto se esco ecco ma non li ho sempre addosso come prima ancora di più per questi che vi sto facendo vedere perché per il mio mini polso sono forse un po troppo abbondanti quindi tenete conto del fatto che se siete veramente piccole 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 come meglio la misura più piccola per esempio di pandora questi bracciali vi staranno leggermente larghi però sono portabilissimi certo che portarli h24 come facevo prima se mi stanno mi stanno veramente giusti o mi danno fastidio mentre se devo uscire qualche ora li metto tranquillamente questi prodotti mi sono stati inviati mi aveva contattato su phil che mi aveva già inviato tempo addietro il bracciale simil pandora e vi devo dire che lo porto spessissimo mi piace moltissimo unica cosa che avevo sbagliato la misura di quel bracciale l'avevo preso troppo piccolo quindi questa volta quando mi hanno ricontattato per farmi scegliere delle cose è stata contentissima perché sapete che adoro i bijoux in argento sono in pratica quasi gli unici bijoux che che indosso ho scelto due tipi di cosa ho scelto questi bracciali bellissimi peraltro guardate si abbina perfettamente questo con le pietre rosa al vestito che oggi ho scelto dei bracciali è una collana con il nome aspettate che però si è intrecciata allora iniziamo dalla collana la collana è in argento 925 sterling ed è fatta veramente molto bene è molto delicata perché come vedete ha le collanine le catenine veramente sottili e io ho scelto questo modello che è praticamente un modello doppio che ha un pende una collana più corta col pendente a cuoricino è una collana più lunga con la scritta silvia questa collana mi piace moltissimo ha la possibilità di essere allungato accorciata vedete perché ha degli anellini che vi permettono di agganciarla più corta o più lunga a tre tre possibilità vedete così anche se nella più piccola non l'ho mai provato non credo neanche forse mi stia così 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 corta diciamo che sostanzialmente le possibilità sono queste tre una due e tre io spesso la gancio nella più corta quindi la porto così a questa lunghezza è veramente bella era la collana che aveva una delle ragazze di sex and the city se non sbaglio molte di voi mi chiedono non mi hanno fatto anche delle domande su sex and the city se mi sento più che arrivo più una delle altre ragazze erano domanda dell'ask ask sai dori vi stupirò ragazze io ho visto due tre puntate sparse di sex and the city non mi è mai piaciuto lo so è strano ma è così però so che questa era la collanina di una di loro peraltro ovviamente come accade sempre quando ci mandano delle cosine le aziende ci dicono se vuoi dai ai tuoi follower il codice sconto e quindi io ve lo metto in infobox ci tengo a precisare che non si tratta di un link affiliato quindi io non guadagno nulla dal fatto che voi compriate col mio codice sconto oppure no vale per sette giorni dalla pubblicazione di questo video laddove dovessi mettere un codice sconto con l'affiliazione sappiate che non ci trovo nulla di male d'altronde se faccio pubblicità un'azienda non vedo dove stia il male nel guadagnare una parte dei guadagni nell'avere una parte dei guadagni che loro fanno grazie alla mia pubblicità ma questo non è il caso e se no ve lo direi invece i bracciali sono in lega in una lega che non è argento ma sono placati argento e ragazzi sono fatti benissimo perché questa cosa va proprio detta i dettagli cioè se voi guardate charm da vicino charms da vicino sono veramente fatti benissimo uno di questi bracciali avevo la possibilità di sceglierlo con vedete una medaglietta con una foto a piacere che mi avrebbero appunto stampato loro io ho scelto la foto di trilli la mia gatta che cagliari e ho fatto fare vedete il braccialetto con la medaglietta e questo l'ho fatto fare così e poi vedete il braccialetto di quelli che io credo di poterlo anche vedete stringendo così regolare e chiudere e poi ho scelto quello con la mano di fatima che è veramente molto carino ora da un po che volevo qualche ciondolino con la manina di fatima ne ho scelto uno diverso che ha questi sono più argento brunito questo qua più lucente sapete quello proprio più lucido con le perline così mi sembrava un po una cosa diversa e mi piace moltissimo questo con la decorazione di foglia lo trovo bellissimo questo qua vedete anche questo è regolabile perché si possono secondo me se si tira bene si fa prendere la forma più piccola si riesce e poi l'ultimo che ho preso è unconditional love che è praticamente una medaglietta diciamo dedicata ai nostri amici animali che vedete c'è una zampa e io li sto portando di regola tutti insieme vedete che riesco a infilarli senza problemi mi piacciono moltissimo portati così mi piace proprio anche il suono di chi incaglieria che fanno quindi se il costo è tra qualcuno costa dai 9 euro e 90 fino ai 19 questi quali trovate anche placati oro che costano un pochino di più molto carini fatti veramente molto bene vi arrivano nella sacchettina così quindi se dovete regalarli avete la vostra bella sacchettina così dove vi arrivano c'è anche lo straccettino vedete di pulizia se prendete la collana ovviamente o qualsiasi altro gioiellino in argento vi arriva anche il certificato vedete del gioiello in argento quindi secondo me sono carino una buona idea regalo e questi era questo era il mio parere tanto dovevo per aver ricevuto degli oggettini e quindi siccome mi sono anche piaciuti dico la mia positivamente perché anche l'altra volta mi sono anche piaciuto di picco il suo giallo